Le sporadiche piogge di questi ultimi giorni non hanno compensato il grave stato di siccità nel quale versano le campagne venete in questo inizio di stagioni, il RIGUA 2022. I dati presentati dall'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici presso l'autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali indicano uno stato di siccità conclamata che nella scala ideata dall'autorità stessa è salita dal livello di severità bassa al livello di severità media. In questi giorni si è aperta ufficialmente la stagione in RIGUA, però purtroppo siamo di fronte a una situazione drammatica legata alla disponibilità della risorsa idrica. Un insieme di fattori quest'anno hanno generato uno scenario dove la risorsa idrica accumulata all'interno di serbatoi, quindi laghi montani, assieme allo scioglimento oramai totale della neve risulta sicuramente inferiore alla media, abbiamo i laghi che sono sotto il 50%, le portate dei nostri fiumi sono i minimi storici e le falde sono compromesse in quasi tutta la regione, cioè vuol dire abbiamo veramente livelli molto bassi. L'irrigazione ha bisogno, l'agricoltura in questo periodo ha bisogno di risorsa idrica per iniziare il ciclo culturale, veniamo da un periodo di oltre 100 giorni di mancanza di piogge, quindi uno scenario complessivo che pone l'irrigazione quasi a livello di essere compromessa. In questo quadro sono attese dalle regioni del Veneto Ordinanze per restringere gli utilizzi della risorsa idrica, compreso quello irriguo. Le riduzioni di prelievo che si profilano sono davvero significative. Si parla del 50% di riduzione sulle derivazioni del fiume Adige, del 40% per quanto riguarda il fiume Brenta e del 50% sull'asta del fiume Piave e tutte le altre derivazioni della nostra regione. La parte più critica sarà quella del fiume Adige perché la possibilità di prelevare quel 50% lì oggi non c'è perché manca proprio la risorsa e per riuscire a derivare quella percentuale abbiamo bisogno che le portate vengano integrate da degli apporti che devono provenire dai laghi montani del Trentino, di Trento e di Bozzano. Questo è un problema di rapporti anche tra regioni, è un problema di rispetto delle leggi che prevedono che dopo l'uso umano ci sia la possibilità di venire garantito l'uso irriguo e quindi nei prossimi giorni vedremo, ci sarà anche questo tipo di situazione che dovrà essere chiarita nei rapporti tra regioni e province autonome, tra agricoltura e gestori degli invasi idroelettrici. Per Crestani è comunque surreale che in una regione piovosa come il Veneto 6 miliardi di euro di produzione agricola siano a rischio perché le piogge si concentrano in determinati periodi e non scendono quando servono alle campagne. Di qui l'urgenza assoluta di progettare un nuovo piano strategico per l'irrigazione di concerto con la regione.